Dall'Etna facevano tremare Netflix e Prime, ma anche Dazon, Sky e persino Mediaset, Disney e Apple. La DDA di Catania ha scovato un'organizzazione criminale con migliaia di siti illegali che vendevano abbonamenti taroccati alle principali piattaforme televisive internazionali, in Italia e all'estero. Tutto avveniva alla luce del sole, anzi dei monitor, ma rintracciare la centrale sembrava impossibile, tanto che le polizie postali di Mezzitalia hanno lavorato a lungo per rintracciare i pirati digitali sotto l'Etna. Infatti la base principale era in Sicilia, a Catania. Per eludere le indagini, gli indagati hanno utilizzato chat cartografate, identità fettizie e documenti falsi che sono stati utilizzati anche per l'intestazione delle utenze telefoniche, carte di credito, abbonamenti televisivi e noliggio di server. Praticamente c'era una filiera virtuale perfettamente legale, ma i veri capi erano fantasmi. Sono 21 le persone indagate al momento in tutta Italia. La banda otteneva con questo sistema, avvantaggiato forse dal prezzo troppo alto dei canoni delle pay tv, profitti mensili per svariati milioni di euro.